ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su fifa 18 allora eccoci qua iniziamo chiaramente con il mercato estivo questa stagione la stagione in football league one promossi chi non avessi visto il video precedente allora prima di iniziare allora vediamo la rosa notate qualcosa probabilmente a occhio no anche perché non sono giocatori straconosciuti però vedete Ahmed lì in realtà non ci doveva essere Ahmed ci doveva essere Reed qual è la cosa ve la voglio dire perché c'è c'è del ridio c'è dell'imbarazzo mio delle figurette mie strano praticamente Reed in realtà non era nostro è un prestito quindi vabbè ok che mi è servito allenarlo diciamo per la stagione precedente però un po' mi è scocciato perché il video che Reed è arrivato su facendolo allenare anche in maniera manuale o sì mi parlerà 69 e 70 quindi dè sinceramente poi quando ho visto è tornato insomma su squadra è mi sono un po' girati i coglioni comunque e niente situazione siamo messi o sì questa è la rosa bella eh come sempre i nostri terzini che sono difensori centrali questi sono i vaini una miseria eccoci allora io ho già messo comunque qualcosina qua nell'hub mercato no qualche giocatore che mi avete consigliato faccio vedere per correttezza eccolo qua e il problema qual è ora voglio dirvi una cosa che magari mi prenderete in giro allora io è anni no che gioco comunque a fifa e faccio la carriera ma anche indipendentemente dal fatto che sia stata caricata su youtube o meno proprio a livello comunque mio privato via io non ho mai abito un ossa quando viene iscritto eh staff impegnato no comunque non può diciamo seguire i giocatori più intensamente ovvero che poi non ti dice come dice con quegli altri magari il prezzo lo stipendio i vestiti se vi no qualità totale cioè come faccio io a far sì che magari uno dello staff comunque tra virgolette lo staff possa liberarsi per poi magari metterci un altro giocatore no ve lo sto chiedendo perché sinceramente mi trovo un po' di infiorità perché tutti questi che fra l'arte mi avete anche consigliato alcuni vesti io le vorrei seguire più da vicino no per magari eventualmente valutare se poterli prendere o no però il problema è che qui mi tocca fare automaticamente la classica trattativa quella proprio diciamo interattiva e boh nel senso di mi tornerebbe molto più comodo se potessi sapere comunque più o meno quanto vale il giocatore e quanto ha no e ve lo dico beh ormai per questo video qua lasciamo perdere per eventuali mercati futuri o video futuri perché sinceramente non so se questo se in questo video farò tutto il mercato o mi fermerò magari che ne so al primo a metà agosto insomma non lo so vediamo comunque avanziamo lasciando sta questa si verrà il regolo avrebbe venirci la richiesta di voler fare la classica coppa per campionato con la quale spero ovviamente di farci due citti perché sennò qui veramente no non si prende nulla e o perlomeno si prende molto molto po velocità come sempre estrema bene mi fa piacere oh ok vai l'inviti è un po io scelgo sempre quello più redditizzo ma chiaramente lo perdo no e mi auguro che un attimino quello lì in basso c'è in basso qua da sinistra c'è a barcelona b che altrimenti c'è qualcosa che non va no in realtà c'è qualcosa che non va perché sto guardando le stelline v2 e mezzo che hanno di 1.600.000 stavica c'è una 2 2.100.000 vabbè noi si prende questa non c'è problemi come se poi la vincessimo eh voglio proprio vedere tanto come non so se vi ricordavate nei video precedenti il buon role è andato in prestito c'è un attore pensavo ci andasse il primo invece no non avevo fatto caso accettammo l'offerta durante il precedente campionato a Deccardi e a Valencia intanto chiaramente tutte le partite della coppa per campionato le simulo eh e di conseguenza anche per avere una visione un po' più completa no si può definire così come sempre eventualmente prima di entrare no a livello di acquisti nel mercato vero e proprio prima finisco la coppa cioè sì dai prima concludiamo la coppa vediamo un po' quanti soldi ricaviamo da essa e poi eventualmente ci muoviamo un po' tanto più giocci e la 2 a 0 buono quindi aspettiamo tanto vi è arrivata un'offerta Pino Williams e io ho provato a fare una contro offerta un po' più alta se la accetta bene se no lo teniamo seconda partita vediamo un po' come va 0 a 0 vabbè potrebbe andare meglio ma potrebbe andare anche peggio se non vedete far vedere quanti siamo messi importante è passare il turno eh no siamo prima addirittura bene eccoci qua terza partita ultima partita del girone e l'offerta è quella del millwall insomma vabbè la controfeata vabbè vabbè per Bino Williams eh non l'hanno accettato e non si pensa la trattativa è fallita tacchete 2 a 1 buona novantesimo allora ma riperto la partita ma me la tardi toh allora Wakefield e Brownhill sì sì penso di sì in prestito vai ok semifinali contro le Havre vediamo un po' la vedo BG eh sono pessimista questa volta non premo il triangolo ma aspetta ecco infatti una 0 per l'altra dai eh vediamo un pochino sarebbe male eventualmente passare il turno ma mi sa che qui no boia di aveva fatto Q e allo stesso minuto non si sa come hanno rifatto con loro niente fuori finita ma spero che mi erano usciti ce l'abbia andata spero asciugati asciugati per davvero voi ed è 650 mila allora primo acquisto Posevec ok c'ha 67 diciamo che tutto sommato l'abbiamo pagato in proporzione forse un pochino di più di quanto poteva diciamo valere diciamo in proporzione no a soldi che avevamo forse era meglio spendere qualcosina di meno ma sono contento perché 22 anni dai occhio è sbagliato e se lo alleno a questo sale proprio portieri come penso sapete con quelli che salgan più velocemente e quindi intuire non è stato un affaraccio anzi secondo me fra un anno vale a me minimo il triplo c'avrà come minimo secondo me 72 se non di più fra un anno se lo alleno quindi sono contento ho fatto uno scambio di giurato 40 soldi ho fatto uno scambio ho dato bell'arte ai portieri ora non mi guarda come siamo anche l'aero tengo in panchina bell'artro oddio vabbè c'è un'arte che non mi guarda come siamo e niente quindi lui è il primo acquisto ole secondo acquisto ducurie 66 pagato più o meno intanto lo sposto eh pagato più o meno anche lui con uno scambio ma di difenza di sega valeva 90 mila quindi pensate voi eh quante si è pagato uno e 1 e 4 mi parla 1 e 350 ma mi ricordo insomma che lui diciamo valore che costava un milione e tre quindi più o meno valore molto ecco sia diciamo il valore ecco il suo valore con la spesa fatta però posso garantirvi questo lo so per altre carriere fatte appunto in maniera privata tra virgolette che si è allenato anche lui sale parecchio quindi per ora sono molto contento addio questo per io sto per uscire dalla carriera ma sbagliavo tutto quindi bene così abbiamo venduto lui valeva 800 mila no scusate 700 mila l'abbiamo venduto vabbè 990 e 0 0 0 0 990 mila anche se poi vabbè sono arrivati chiaramente 650 mila però buono perché cominciavamo a avere pochi soldi avevamo più o meno 1 milione e 4 1 milione e mezzo quindi buono tanto lui non gioava anche se probabilmente eh col fatto che O'Gredi sta sta calando anche per un discorso di età lui stava salendo probabilmente poi avrebbe preso il suo posto però speriamo che con questi soldi possiamo prendere qualcun altro terzo acquisto come vedete in alto a sinistra se si pronuncia così Silla 18 anni scambiato con Binom Williams più 250 mila euri quindi una cifra abbordabile è vero che c'è 64 però anche lui mi sono un po' informato sinceramente non l'ho mai provato io a livello proprio mio diciamo come ho detto prima Giacomo D'Ocuré in altre carriere non l'ho mai provato però sembrerebbe veramente uno che sia allenato a modino che cresca anche lui L'Ettroni comunque indipendentemente da Tutto ha 18 anni quindi che cresca più rispetto a O'Gredi che ha il suo valore e ha la bellezza di non sbaglio di 32 anni sicuramente ha leggermente l'impotenza e in più diciamo che vi dà la verità mi riferisco soprattutto se guarderai il video al ragazzo che mi ha consigliato Cutrone come altri giocatori purtroppo già non le posso seguire quindi non so quanto possano valere a livello di soldi perché comunque essendo passato un anno rispetto a diciamo alla carriera ma quando inizi magari essendo giovane è salito quindi già il valore che aveva a inizio diciamo della carriera non è probabilmente quello che è adesso e poi ho provato offerte comunque un milione milione e mezzo e me le rifiutano quindi voglio dire che già costano parecchio non metto in dubbio che saranno forti però il problema è che momentaneamente non me le posso permettere mi scoccia un po' vestosa perché sono sempre molto limitato però devo fare così ecco devo prendere giocatori che magari momentaneamente hanno una qualità abbastanza bassa anche se secondo me per la categoria non è così bassissima ovvero per la football league one però cerco di prendere i giovani che comunque possano salire quindi speriamo bene ecco mi dispiace un po' perché Benno Williams non era assolutamente male però ho preferito sacrificare tra virgolette prenderlo piuttosto che tenermelo ecco allora siamo arrivati nel frattempo alla prima del campionato non mi prendete in giro non criticatemi ma siccome voglio continuare il mercato se gioco in casa anche se è la prima magari probabilmente più forte ve lo vi pare io la simulo io credo che almeno per questo video anche se è iniziale un'altra che è importante perché magari se si parte bene magari si fa anche meglio cioè è meglio però io la voglio simulare spero di non pentirmene ovvero spero di non perdere vediamo un po' 1-0 attenzione vediamo se fa qualche nuovo acquisto no anzi si è preso go come guire vediamo un po' Ugu al 76esimo vediamo un po' boi palle però vabbè 2-2 si è pareggiato si poteva perdere ma si poteva anche vincere boi si è fatto due gol ci siamo fatti due volte raggiungere raggiunge insomma vabbè altro acquisto Velasco 25 anni svincolato preso due motivi uno per sostituire Wisman perché anche se alla fine Velasco ha 66 neanche c'ha 2000 però ha più di Wisman è più giovane e comunque come avete notato forse prima diciamo che neanche abbiamo una rosa molto ampia quindi già lui si è sbriciolato per mi pare 4-5 mesi quindi avere eventuali sostituti no non è non è mai male ecco non è mai sbagliato quindi secondo me dato che era appunto svincolato ho fatto bene a prenderlo e niente andiamo avanti altro acquisto Carabahal credo si pronuncia sì cru svincolato quindi non abbiamo pagato un costo di trasferimento 19 anni 65 non male vi dò la verità assolutamente molto meglio di Velasco perché è più giovane e se non è più promettente quindi no non la sono contento per ora lo so che si sta parlando di robetta nel senso perché con tutto rispetto chiaramente perché tutto rispetto perché quegli giocatori sono reali chiaramente però sono giovani 65 69 anni non è male calcolando poi dove siamo noi siamo in Football League One se non si è allenato anche lui può diventare veramente un giocatore importante speriamo speriamo dai sì boia madonna che offertora per 6 milioni e boh dai questo ve lo guardiamola insieme dai trattiamo perché dei 12 milioni e 800 pronti via non è po' se dovessimo arrivare a una cifra più importante è vero che è forte promettente giovane ma ci posso rifare mezza squadra poi nuova offerta ma proviamo me la rischio 18 e no no è il doppio 17 mi sputa nel viso finisce già tutto 14 più la rivendita no proviamo 16 e 2 vai 15 arriviamo a 16 siamo tutti dai ma se cambia di po' dai arriviamo a 16 dai un po' attenzione diciamo che una trattativa per il costo l'abbiamo trovata bisogna vedere se il segno ne va o non va ripeto sarebbe una perdita importante ma allo stesso tempo arrivano una sbotta di Vaini e non è male vabbè comunque intanto siamo arrivati qua Carabao Cup ovvero l'FL Cup simbolo si simbolo tutto ragazzi si simbolo lo sapete andiamo avanti vediamo un po' figlio il triangolo no no godiamoci la perdita di questo momento si perde vai Rivera si ricorda sbagliato ecco potevamo andare avvantaggi ma ci andiamo uguale con il buon Ahmed e poi GES dal 36esimo riquilibra il tutto ma eravamo partiti a mola rigore poi ci siamo persi supplementari attenzione ma ogni volta si fa go si ripilla subito dopo due minuti ha fatto con quell'altra si fa rigore si perde invece no andiamo avanti incredibile 5 watt rigori grandi bimbi perché almeno che un serie trocessa non lo so a regola fa parte della championship ovvero infatti non c'è a meno che non c'è la Premier League ma non credo insomma Wolves a parte almeno nella realtà della serie binglesa championship buono Doncaster Doncastr non lo so simuliamo anche questa ormai dai vela del delostra simulo tutto non ce l'abbiamo a me non ce l'abbiamo dovete stare tranquilli insomma ecco infatti 1 a 0 tranquillo e cornuto oh e me è una peccata 1 a 0 bene pareggiato e persa la prima però si va avanti l'FL Cup che è quasi inutile praticamente cari ragazzi salutiamo Sessegnon un saluto importante perché veramente era chiaramente innanzitutto una pedina fondamentale ma un giocatore che di giorni poi ha cresciuto tantissimo e probabilmente crescerà dell'altro però è arrivata un'offerta quasi irrifiutabile ora abbiamo da 16 milioni ce ne vengono 12 4 milioni se prende un top player per la categoria insomma è così però abbiamo 12 milioni da poter spendere che non sono chiaramente pochi e di conseguenza noi abbiamo venduto anche Ahmed che è il Venezia se non sbaglio sì 500 mila non male anche per stasso vediamo un po' cosa riusciremo a fare con questi soldi quindi si riapre verso il finale perché comunque ci avviamo verso la fine del calcio mercato estivo il mercato appunto speriamo bene speriamo di fare grandi cose qui ragazzi grazie a soldi ricavati dalla scessione di Sessi e None di Ahmed mercato champagne si è preso lui no ragazzi voi non potete più quanto possa essere forte a parte che ha già 69 e c'ha 19 anni cioè ma voi non potete immaginare quanto cazzo cresce lui è impressionante che va a prendere il posto di Mitchell già lì anzi no facciamo non lo so per ora anche se non è correttissimo faccio questa cosa perché Mitchell non è male poi l'ho visto che si sta cio c si un po' di casino poi abbiamo preso Van Bergen costa po' oddio a inizio già costa po' poi costa un po' di più però lo stipendio ce l'ha veramente basso quindi per prenderlo non ha grandi richieste per quanto riguarda lo stipendio anche lui giovane 18 anni stra agile e volendo assodere come uno no l'allena come Dio me lo usa può essere anche abbastanza veloce però è veramente agile guardate le caratteristiche agilità 83 e può crescere anche accelerazione mamma mia insomma e anche lui pagato il giusto ripeto aveva e ha uno stipendio basso quindi di quanto riguarda gli scorsi stipendi lo prendiamo uno lo può prendere l'abbiamo preso a poco tutto sommato e poi da affiancare a Silla anche se mi tocca metterlo in panchina ho preso Brereton che anche lui 19 anni 69 quindi figuratevi un po' quanto possa cresci quindi Dio sono straontente ma avanza sempre parecchi soldi ho un'altra trattativa lì lì che non si sa se va in porto o meno perché i giocatori insieme alla gente hanno detto che hanno un po' di tempo hanno voluto prendere un po' di tempo per pensarci se arrivesse venire lui ragazzi veramente centro campo quindi mi ha detto c'è qualcosa da paura no forse è meglio in realtà dato che poi potrebbe venire lui spostare Edwards se arriva eventualmente valutiamo un po' e dopo un po' il tutto tanto però rimaniamo così Riveros sta sta dietro ACC quindi volendo si può anche stampano dietro eh devo arsi ED e COC anche se è un ruolo ideale lo scherchiamo qui si è un po' strano dici questo V AS AD AD più che altro lo metti dove va Michio la faccio così forse è già quello più corretto vabbè forse forse è già messo sì è già un po' diverso non so perché sistemare comunque è questo ruolino qua perché non essendoci più Sessegnone va sistemato il terzino sinistro vediamo un po' cosa riuscirò a fare ragazzi è arrivato ora uno può dire perché sei così casato cioè un 68 l'ho pagato anche tanto perché non per averlo pagato un pochino no di costo trasferimento ho raggiunto un prezzo importante nel senso molto economico perché costava 2 milioni cioè il suo valore è 2 milioni l'ho pagato di trasferimento se non sbaglio 1 e 4 quindi non è male 1 e 6 1 e 4 vorrei un fuori amico Edwards il problema è stato lo stipendio che prende quasi varianta mila che prima squadra di football league one sono soldi però ne vale la pena cioè veramente penso che lui sia quest'anno uno dei giovani nel senso giovani papà di valore d'età no perché ha 17 anni quindi aveva 16 anni nell'anno diciamo vero e proprio quello in cui siamo adesso lui dovrebbe avere 16 anni credo o comunque 16 anni e mezzo 17 appena un più utile cazzo ne so a regola dovrebbe averci comunque 16 anni e niente mi pare sia uno di quelle lì veramente più promettanti del gioco in se per sé dovrebbe essere veramente ha un potenziale clamoroso un overhaul impressionante quindi quindi boh prima fa così allora lui va qui ok poi vanberghe che se bastasse a destra che a sinistra io direi di metterli qua così lui è corretto lui è corretto rivero scorrettino e chi è cc quindi dovrebbe essere un mezzo fra fra dov'è ora e gomez quindi volendo posta anche sul mese cdc e poi vanberghe non corretto però nemmeno buttato di fuori quindi guardate va quindi adesso dobbiamo sistemare questo roletto qua boh vediamo un po' eccolo qua hitter preso dal voosburg 19 anni lui dovrebbe avere un potenziale abnorme anche lui per essere un terzino sinistro e l'età pagato un milione e tre quindi un pochettino troppo rispetto al suo valore vero e proprio però appunto mi voglio fidare di quanto ho letto insomma quindi boh sono fiducioso e vi dirò anche questo secondo me la squadra va bene o si non so nemmeno quando sono rimasti credo una miseria perché comunque così non spesso e niente vi do la verità io sono molto molto contento della squadra che che ho ora poi ci stiamo dicendo anche il discorso panchina bla bla perché in certo in the panchina non si lascia anche se io dico in the panchina ma non si dice in the panchina la panchina e niente sarebbe buono se mai dovesse arrivare qualche sordino sistemare a modino questi tre ruoli ovvero il cdc metterci uno per il proprio che il rivero sia scarso mancherebbe però magari un altro giovane promettente un difensore centrale di qualità veramente magari che abbia una qualità magari intorno al 70 non perché loro siano scarzi ci mancherebbe anzi sono giovani e crescono ce ne do correggere di 67 come del resto anche 67 che diventa 68 però magari avere un qualcosa in più in difesa e poi un terzino destro un po' più giovane di velasco che possa essere come magari hitter a sinistra però questo caso appunto a destra ovvero promettente per il resto io sono strauntento se non dire che brevemente possano salire tutti e spero anche lui possa diventare brevemente un 68 un 67 che 64 stona un po' ecco vedremo intanto siamo arrivati l'altra giornata di campionato contro il Wigan in casa simulo ormai simulo tutto si parte poi a modino a settembre ecco proprio a livello anche di partite giocata anche perché vedi la verità sembra un controsenso perché non è che non ho la possibilità ce l'ho però voglio provare proprio a livello di gioco nuovi giocatori però voglio aspettarmi a settembre ecco ma ne è in mane si inizia o si subito 1 a 0 Wigan dopo 29 minuti speriamo bene si presenta così con un gol no dai ma non è possibile all'89 si è preso il gol del 2 a 1 per l'arte il solito aveva fatto il primo gol poi a che inizio a livello di amperato inizio brutto vabbè però siamo all'inizio anche l'anno scorso c'è l'anno scorso insomma nella scosta stagione noi iniziamo nei milioni di modi poi invece guardate ma è andata eccoci qua ultima partita del mese di agosto di Carabao Cup la di prima la FL Cup si giova fuori assa quindi probabilmente lo Stanford Bridge contro il Cersei ora sono nel dubbio se giova là o meno di no si si ma tanto è inutile anche se se andava dovessi per motivi non so come passa tanto si va fuori dopo e niente boh vediamo magari boh ci sia qualche sorpresa questa partita non credo eh però chi lo sa ma magari c'è una casardia in panchina però se si vuole anche ballarti l'uomo ci spaventa vabbè da apprezzare che per ora anzi ancora penso incredibile si è tenuto testa per un tempo al Cersei e poi Benito 57esimo go attenzione Silla con il tuo 64 di qualità totale 1 a 1 adoro supplementai può succedere boh attenzione Riveros 2 a 1 ma cosa sta succedendo ma cosa sta succedendo cioè si perde contro il Wigan in casa all'89esimo si e poi si passa nell'FL Cup con 3 Cersei fuori Asa boh così a caso incredibile però intanto abbiamo venduto Maguire per 500.000 euri anche se poi ce ne arriva 325.000 Art Barnett tanto non gioava quindi boh tanto per ricavar due spiccioli o sì poi dopo Maguire ci lasciano anche Mitchell guardate vabbè guardate le cifre eventualmente se vi interessa e Aguilar quindi adesso per sicurezza è meglio trovare un altro quartierino scarso magari però giovane se possibile per farsi un do a Pozavec dato che là non c'è più e Mitchell l'ho venduto perché tanto non gioava probabilmente avrebbe fatto la panchina sarebbe entrato si entrava partita in corso eventualmente se si rompeva qualcuno e ha detto no via si vende non ci si pensa più sia per lui bene cioè bene nostro e anche per lui insomma via che io ci tengo ai miei giocatori anche se sono un gioco capito siccome abbiamo venduto Riveros al Bolton per un milione e quattro più o meno poi bisogna vedere non mi ricordo quanto poi mi sono arrivati a me effettivi da poter spendere ho preso lui Adams forse neanche in un altro proprio il tentone 19 anni 69 pagato fra l'altro un milione e basta più o meno forse un pochino troppo di stipendio però diciamo che è stato solo me un grandissimo affare si si senza o me di dubbio allora siamo arrivati a settembre carciomercato finito e questa è la squadra io direi che ci siamo veramente tanto 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 rinforzati indipendentemente dal fatto è che la qualità totale possa non sembrare almeno momentaneamente così alta però posso garantirvi che secondo me siamo tanto tanto rinforzati purtroppo a parte i discorsi avevo detto che un difensore centrale mi ha lasciato perdi trovavo uno che magari rispicasse un po' diciamo quindi vabbè tutto sommato di pesa cioè quanto riguarda i discorsi difensori centrali secondo me non è stato tutto va abbastanza bene purtroppo non abbiamo trovato un terzino destro magari adeguato tra virgolette alla squadra nel senso magari promettente come la squadra però alla fine Velasco non è male nel senso abbiamo sicuramente rinforzato quel role lì perché c'era Wisman che aveva 63 e era più vecchio che lui quindi tutto sommato va bene anche Velasco almeno per ora poi vabbè ho preso qualche svincolatore non mi ricordo nemmeno che è perché a livello di noi mi pare uno due e tre sì forse no non lo so vabbè sì poi ora devo prendere anche un portiere lo prenderò un po' un karma svincolato un portierino miseria tanto per averci l'eventore sostituto comunque la squadra di ZPZ è questa io ripeto io sono molto contento di rimanto fatto se si va a vedere fra l'altro qualcuno è già salito Edward 70 vabbè D'Ocurie la 66 c'era 68 Italy 67 Sila c'era 65 lui 69 Gomez Milorius 68 vabbè comunque c'era 69 vabbè poi c'è anche Van Bag insomma quindi anche Adams c'era 69 già 70 quindi una squadra molto molto permettente che se ne vede a quella fine dell'anno salirà molto molto di più insomma fra tutti saliranno tutti ecco almeno i titolari insomma quindi niente sono molto contento assistiamo un po' anche a livello dei numeri che sono fissato forse perché scarpette sono fissato su questa CV magari qualcuno ha scarpetta simile per cercare di differenziarlo magari quando c'ho senza guardare il nome insomma io assistiamo le scarpette poi sistemo anche magari i moduli per quanto riguarda capitano punizione bla 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 quindi guarda rimango già così e niente ci rivediamo anzi esco ne faccio un'altra ci rivediamo nei prossimi video appunto con inizio settembre che se non sbaglio settembre inizia subito con pa la partita contro il blackpool si bisogna un po' risollevarci perché abbiamo iniziato veramente male il campionato però come vedete la prima ha sette punti noi siamo a a uno vabbè sei punti si ok dopo tre giornali sei punti sono anche troppi di differenza però vabbè siamo lì nel senso iniziata ora quindi niente testeremo proprio a livello anche di giocabilità chiamiamola così proprio la squadra ripeto io sono molto contento vediamo se la mia felicità può essere coerente poi anche con i risultati via la squadra via che ho fatto può essere coerente appunto con le partite via con i risultati come ho detto prima cercavo un time diverso ma non mi è venuto vabbè dito questo niente ci vediamo poi a settembre vi aspetto scusate per la durata di video ma è stato molto vi avevo pigiato ecco via ciao grazie a tutti